ragazza benvenuto sul canale qua come state vedendo già dall'anteprima del video oggi andiamo a parlare di foil voglio mostrarvi questi tipi di foil che ho comprato su aliexpress quando io sono andata in cerca del di foil su aliexpress del louis bouton io avevo fatto le screenshot a questo a questa pagina che si trova in instagram vedete e automaticamente mi è venuto su aliexpress per quello che vi dico che dovete ogni tanto se vedete qualche prodotto qualcosa fare le screenshot andare su aliexpress nella sessione cerca e te li trova qua si presentano dentro a queste scatolina qua a me mi sono arrivati sciolti come avete visto e in quella bustina lì però ragazze non mi dispiace perché perché io ho il contenitore lungo dove li metto e così almeno il foglio mi rimane e non tutto arrotolato perché io non ho pazienza da ogni volta che tiro fuori uno perché ho fatto un decoro mettermi arrotolare metterlo dentro se volete proprio metterli così come state vedendo questi anche questi contenitori li trovate su aliexpress ok cercate contenitori per tip e vi viene fuori questi contenitori qua ok avete visto questa è la prova con questo e screenshot io l'ho postato su aliexpress e mi sono venuti e tutte le immagini di questi tipi di fogli e come state vedendo ragazze sono le stesse solo che qua su instagram costano un voto perché io avevo chiesto informazione adesso non me lo ricordo quanto però costavano parecchio come state vedendo sono le stesse e anche le stesse colorazione e e allora ragazze sono questi vedete questi sono tutti i tipi di colorazione che ho comprato su aliexpress guardate qua ragazze sono con le stampa del logo della louis buton e guardate che belli sono 50 cm ragazze mezzo un metro e sono 10 ok ve li mostro meglio nel dettaglio guardate questo quadrato questo sul verdino viola nero rosso blu dorato bianco vedete e bronzo allora ragazze se volete sapere se questi tipi di foil se trasferiscono utilizzando il gel per fogli della vena lissa o il gel per fogli del passione unghie siete rimaste nel video giusto per cui ragazze mettetevi comodo che adesso vi faccio vedere allora qua su andiamo a provare vena lisa per cui vena lisa e qua giù di passione unghie allora in questa tippe non ho messo colore l'ho fatta così perché volevo provarla quel giorno lì veloce e l'ho fatto allora qua nella prima come avevamo detto metto vena lisa o opacizzato la tip non serve né troppo prodotto né poco prodotto la quantità giusta sto facendo questo mando in lampada per 30 secondi ok finito il suo tempo l'ho lasciato soltanto 30 secondi a lampada fredda ok quando l'ho messa dentro la lampada era fredda allora il foil si presenta così da questa parte è lucido vedete e da questa parte è opaca questa sarà la parte che io andrò a mettere a contatto con nel gel ok che come vi ho detto e sto utilizzando questo qua della vena lisa allora cosa vado a fare con attenzione vado ad applicarlo così lo sento già vedete lui già si è incollato potete farlo con la mano questo questo lavoro qua esiste anche questo questo aggeggio qua come volete grattate bene ok si era la mano di una cliente non dovevamo tribulare tanto perché non ce l'hanno così curvata le unghie almeno ve lo auguro ragazze per avere delle cliente con le unghie così particolari ok allora ve lo ricordo sto utilizzando ben alisa quello lì solleviamo con attenzione come state vedendo vedete 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 io voglio farvi vedere prima questo guardate e ve la voglio mettere a fuoco guardate come si è trasferita bene guarda quel pochino di prodotto che mi è rimasto qua e la pieghettina di e la pieghettina qua sopra e come state vedendo si è trasferito benissimo per cui ragazze io non so cosa vi dirvi ogni volta che che faccio un video vi presento questo mi dispiace però ragazzi tanto costano poco provate magari e lotto che avevano venduto in quel periodo la era difettoso provate ragazze vi lo faccio vedere di nuovo il mio è così davanti dietro è così sotto non ha niente fate le screenshot ragazze andate in cerca non mi faccio responsabile perché questo io l'ho comprato e l'ho pagato con i miei soldi in tantissime se sono anche un po offesa arrabbiata e non funziona ragazze io continuo a farvi vedere durante i miei video che lui funziona è il mio funziona e allora ci sono delle ragazze che hanno trovato il metodo da farlo funzionare ok allora avete visto con la benalisa si è trasferito benissimo adesso è la prova di passione unghia in tutto ciò la lampada è spenta ok perché se state lavorando con la lampada la lampada è già calda bipolimerizza troppo il prodotto intanto la mia è spenta allora gel per foil di passione unghia e andiamo a vedere vedete qua ho scritto bu e anche qua allora io sento la differenza dei due prodotti stendendolo quello della benalisa è più commosso quello di passione più liquido vedete lo tiro molto bene non ci deve essere né troppo prodotto neanche poco prodotto è come quando si sta colorando le unghie ok a lampada fredda ok io vado a mettere dentro la tip in questo caso lampada per polimerizzare il prodotto che è questo per 30 secondi guardate cosa mi ha fatto passione unghia qua il prodotto si è arricciato qua all'atto non so se riuscite a vederlo vedete qua tutto questo tratto tutto così è tutto arricciato come mai l'ho fatto anche di qua come mai non lo so roba che non me l'ha fatto bene alisa però va bene ha trascorso su 30 secondi lampada adesso andiamo a trasferire il foil anche questo della parte opacca metto così perché lo vado a sprecare un altro po vedete qua si è fatto una piega quando si fanno le pieghe ragazze non alzatelo perché ormai lui si è incollato ok lavoriamo molto bene qua sento la parte che tutto è frugata qua i laterali e anche qua chissà perché ha fatto quella roba lì anche perché non era troppo il prodotto neanche troppo poco lo adossato più o meno come ho fatto con quell'altro allora con attenzione andiamo a sollevare vedete e si è trasferito anche questo molto bene senza inganno vi faccio vedere anche qua il foil che ragazze tutti i due e i prodotti lavorano benissimo e adesso ragazze sta a voi la scelta se prendere benalisa o prendere passione unghie perché come avete visto ragazze questi due prodotti lavorano molto ma molto bene questo primo con la benalisa e questo come avete visto il secondo con passione unghie qua come state vedendo vedete lì si è un po' rugata la situazione ma non so perché non so perché però comunque è il prodotto si è trasferito benissimo voglio fare un'altra prova con passione unghie ci sono molto bene la tipe perché magari voi dite luci forse la tipe non era opaci stata bene ok ci sono molto bene levo la polvere metto il prodotto vedete lo tiro molto bene come ho fatto anche con il prodotto della benalisa vedete questo tirando bene la posizione un bene in mezzo alla lampada come ho fatto prima e la mando adesso lampada per 30 secondi ok ha finito il suo tempo e lampada anche qua da una parte me l'ha fatto un pochino me l'ha fatto in punta ragazze vedete che qua la luce non è molto pulita però vabbè andiamo a utilizzare un foil questo casomai vecchiamo un attimo qui lui si trasferisce benissimo grazie comunque nonostante tutto si trasferisce bene 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 vedete la cartina lì come perché lì il prodotto si è arricciato come dico io allora facciamo questo vedete ecco qua la prova guardate la cartina pulitissima qua dove state vedendo perché lì c'erano delle pieghette però non c'è niente da dire di un prodotto o dell'altro ragazze lavorano benissimo tutti e due e questi e poi la ragazza arrivano di aliexpress per cui non è niente di super wow si è trasferito benissimo adesso io vado a sigillarmelo ok le mando in lampada per 60 secondi allora ragazze guardate qua l'ho sigillata con il top che vi ho fatto vedere della venalisa che è questo che è un top senza dispersione e questo il risultato e come avete potuto vedere ragazze queste tutte queste con questo gel transfer per foil della venalisa questa anche questa con la benalisa e queste due con passioni unghie e come avete potuto vedere ragazze ecco qua il risultato che è lo stesso risultato che voi state vedendo qua nelle rimanenze del del trasferimento dei foil per cui super approvato anche questi tipi di foil io spero che questo video così veloce vi sia stato utile vi metterò ragazze e magari il link qua sotto dove ho preso questi tipi di foil ragazze però potete anche fare le screenshot facendo le screenshot al prodotto che sto presentando potete andare su aliexpress a cercarlo ok e come avete visto ragazze vi ho mostrato in diretta queste due prove utilizzando il prodotto della venalisa questo qua qua nel primo e queste due con il prodotto di foil di passioni unghie per cui ragazze sono foil che funzionano li ho pagati pochissimo adesso vi do un po di dettaglio ecco qua ragazze queste sono le informazioni per questo tipo di foil che ho comprato io e la colorazione che ho scelto io e questa quale al numero 2 allora loro non sono molto chiari e diciamo i disegni di questi di questi foil vedi mi dice spiacente bla 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 però ragazze cercate sotto perché come sono robe con dei marchi che non sono originale loro non li mettono bene alla pista però qua lo potete vedere qua lo trovate ok vedete anche qui e tutti questi andiamo qui sempre lì nella pagina dove ero vedete ragazze che loro lo censurano se dice vero guardate sono questi sono quelli della chanelle e altre robettine e anche questo vedete perché sono delle robe un po e anche questi per cui cercatele lì voglio farvi vedere anche un altro allora ragazze cercando con il link che vedete che io vi darò voi dovete andare sotto ok e cercare vedete questi tutti questi che sono così nascosti e perché lì ci sono e loro per rispetto visto che l'hanno copiato spuduratamente e lo censurano ok però lì ci sono vedete adesso vi faccio vedere una cosa vedete le persone sotto che mettono le foto del cosa hanno ricevuto trovate anche questo vedete per cui cercatelo e niente ragazze io spero che questo video così veloce vi sia piaciuto l'avete trovato interessante fatemi sapere ragazze se dopo e li trovate o trovate anche le altre e scritte le altre brand e fatemelo sapere ragazze che sapete che tutto e ci fa comodo per soprattutto per il nostro lavoro anche per mostrarvi e niente ragazze questa è stata la mia dimostrazione come avete potuto vedere questi due prodotti lavorano abbastanza bene su questi tip di foil e spero che vi sia piaciuto e lasciatemi sotto ragazze un emotico con la faccina sorridente niente ci sentiamo in un prossimo video ciao ragazze